Oddio Così veloce, ho avuto una sera dalla terza va benissimo Ciao! No buffone, sei zitto, sei dietro, sponso! Sei dietro buffone Oddio E la madonna si mo si borrato Ah infatti Iiii 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 Grazie a skin Ma proprio Mo valla giocare Ma proprio Ma proprio Ma proprio Ma ciao Ma proprio valla giocare Mo Persus Si 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 bi No OO I può PORTERO Voi Allora calm down ragazzi Ehm perché Chi C'è PORTERO Aspetta fammela la fanno Fanmela la fanno Giulia Vale Ok ciao pagare potevo uccidermi vabbè ti voglio bene ma la tocca va bene ma no ma porca puttana minghia la mia nuova arma è diventata questa la mia nuova signori non ci credo tu 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 ma come come annullato cosa vuoi ok sto a 4 vado ti ha io sulle spalle goddio mario mi ha preso sono uscito tu sito e per una cagata è banale non ha nulla esatto perché non sta come personaggio giocabile il maiale devi uno devi uno aiuta ma sei fortissimo ma le slas c'è ma 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 madoladi sborra madoladi sta sborrata è brutto madoladi si fa un pippone a 300 mani e lì si fa fa un pippone a 300 mani sborrò olè ci sono è il momento più bello ciao lil carissimo è il momento più bello ma anche quello in cui io mi incago più di tutto il mondo ma salve forza fa mamma mia hai capito tutto hai capito tutto dov'è dov'è il mio dov'è il quadro a vedere capito tutto ho questo io ho questo è un po brutto lo so è un luogo che non mi piace tantissimo preferisco quello circolare mamma mia meraviglia meraviglia oggi il santino al dietro di santino mi porta la vittoria mamma mia oggi partita per me complicata madonna mia io volevo fare la schedina oggi io oggi volevo praticamente la schedina non l'ho fatta vabbè ma non me la sai sentita di mettere i due ho talmente tanta paura che avrei messo più x2 mamma mia classi felice che ho preso splatoon 2 stava facendosi con la testa ho preso splatoon finalmente mamma mia mamma mia speriamo che vada bene oggi io ho manco letto le formazioni aspetta non ho manco letto la formazione da quanto non apro instagram per vedere allo stanno perina saline secca di rizzo silvestro ciascuno già vezzoni rolando gagliano millico rimette gagliano dal primo minuto buono 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 stai mettendo gagliano dai dai allora perina non si discute saline su mostro il cato e il rizzo sono centrali ragazzi anni fa si sentevo che porta fortuna sia lini non foggia nanna a una forza pagina da prendere la sciarpa e foggia aspetta dove ce l'ho la sciarpa aspetta io quelle delle bancare le schifose aspetta io quello delle bancare le bancare le so io tipo e che io una sciarpa ciò perché sono venuto una volta avuto 3 però sono venuto dico domenica per chi è un attimo più ah vabbè ma io so questa è vero e c'ho questa io non ho bisogno di una sciarpa io non ho bisogno di una sciarpa signori aspettate io non ho bisogno di una sciarpa io c'ho questa io c'ho una maglietta proprio io c'ho questa io c'ho un diretto gente una maglietta ah io c'ho vettente una maglietta mi prendo una maglietta direttamente mi prendo direttamente la maglietta e faccio cosi ma mamma mia bellissimo bellissimo Va bene lo stesso La maglietta va bene lo stesso Va bene lo stesso Questa è Una vera maglietta Quella è quella d'allenamento Tipo Quali giocatori usano per allenarsi Della stagione 2021-2022 Mi sembra Questa è 2021-2022 Non mi ricordo tantissimo Mi sa di sì Chi era il 14 Chi era il 14 ai tempi non me lo ricordo nemmeno Perché il 14 Non è mai stato un numero Importantissimo a noi Non è mai stato un numero Esagerato Io la maglietta Della Lati Ti devi solo che vergognare Io mi vergognerei forse in te Io forse in te mi vergognerei Quanto fa la Lazio Potenza crotone Madonna potenza vinci oggi Madonna mia Se vince il potenza oggi è bellissimo Se vince il potenza oggi è spettacolare Se vince il potenza oggi È fantastico Ma butala Ciao figlio Ti ho visto Butala Già La butta Forse è qui Quanto fa il caffè Oh Boy girl dog Cioè voi immaginate che io Inizio E vedo sta roba Cioè io devo Io mi sto vedendo Now Ho avuto un iscritto nel frattempo Cioè Rendiamoci conto Rendiamoci conto Io Cioè sto vedendo la partita su Now Io oggi me la vedo su Now La partita Come è sempre Io la partita Me la vedo su Now Immagino tutti su Now Immagino tutti se la vedano su Now La partita Immagino tutti su Now Ma mi serve un cazzo avere le cuffie addosso Perché tanto non sento neanche l'audio Della roba Guarda quando sei brutta Maronna mia Hai letta Lamborghini Stai letta Lamborghini Mamma mia Quando è brutta Mi promuove Il wifi di Sky Mi sta promuovendo il wifi di Sky Ma cos'è Ma cos'è Ma cosa sto vedendo Il bambino che piscia Il bambino che fa la posa Che fa il pisello Che fa Oh Piscio di brutto Mamma mia Che vergogna Per l'inno Sempre forza Foggia Mi raccomando Io tipo Io sono andato a vedere Le partite dei playoff L'anno scorso Io l'anno scorso Ho visto le partite dei playoff Mi sono visto Foggia potenza 1 a 1 Con il gol di Dinoia Mi sono visto Foggia Crotone 1 a 0 Mamma mia Foggia Crotone 1 a 0 E Foggia Alec 1 a 2 Mamma mia Che schifo Il Alec Mamma mia Che mi vergogna Ma Sotto Chi Forse giocheranno O male Forse Lazio Giocheranno male Fammi controllare La Lazio Sento qui Si fa tutto il calcio Del mondo Che aggiorno pure Sulla squadra No sta in 0 a 0 Adora Adora sta in 0 a 0 Ole Sta tutta la Pepsi Si pronta Ho detto un gol A portare la Lazio Che ti stai vedendo la Lazio pure Mamma mia Sta iniziando Mamma mia Il gol di Leo Madonna Madonna mia No Madonna mia No 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 Madonna Fa male vedere il gol di Leo Madonna mia Madonna mia Madonna il gol di Leo Madonna Madonna quello che mi ha fatto segnare Madonna Quando stavo lì Ciao Ciao Gabbricks Che schifo Lo stavo della Latina Che schifo Che schifo Lo stavo della Latina Sta Comunque Grazie a tutti quelli Che si stanno iscrivendo Ragazzi Grazie tante Mamma mia Dello stavo della Latina Il nome è Antonio Scalandra L'ho visto Dal tuo profilo YouTube Antonio Piacere mio Mamma mia Oh mio Dio Latina Calcio Latina Calcio Latina Deve se rosso unire Ed è sempre rosso unire Latina Da quant'è che Latina Non fa punti A che sa proprio Contro di noi Da un pezzo Squadretta Squadretta Voi la serie B Quattro anni Così Per fortuna Siamo i più forti Cioè Siamo i più forti di noi Ma siamo sempre stati I più forti Noi siamo Fortissimi Da che dobbiamo puntare Di nuovo alla B Quest'anno Si ripunta la B Allora Le ultime partite Mamma mia Che ricordi Allora Mamma mia L'ultimo Latina Latina Foggia Foggia Tanti campioni 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 Questa è una festa Per bambini Sono venuta solo Per dire Forza Bari Bari Assi Nooo No 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 Tipo Forza Foggia Vedi che Samuel è intelligente Capisce Lui Ok Ok Mi scusse Come fuggi Dalla Foggia Non per Foggia Ma per chi va a Foggia Mamma mia Mamma mia Si stanno a stringere la mano I campioni Dai Moses Voglio un'altra partita Buona oggi Fuggi 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 Non per Foggia Ma per i Foggia No 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 Domenico Cosa scrivi Domenico E dai Che sei Di Latina Domenico Oh Vabbè Io Non faccio niente Io non Dico niente Adesso mi mangio la pizza Guarda Ho preso la sciarappa Sì un grande Io Ma che parli a me Ovviamente Se vi vedete la partita Cioè lo diciamo Proprio veloce Veloce Se vi state vedendo la partita È probabile Che le mie reazioni Arriveranno Con qualche secondo Di ritardo Sei piccolo Io sì Io sì Minchia Sono giovane Io sono giovanissimo Sono abbastanza giovane Forse Ba Come forse Ba Ma cosa Ba Ma cosa Ba Oh Cosa fanno questi Da Latina Sti Scarsoni Cosa vogliono Io allo stadio Non ci vado Dall'anno scorso Lo sapete Ma forza Napoli Mamma Ma forza Napoli Madonna Forza Napoli Stati Questo Mamma Ma forza Napoli No Aspetta Aspetta Io il dialetto Di Poggia No grazie Già non so Di Poggia Quindi Capitemi Aspetta Iniziando Aspetta Iniziando Inter Io Inter Io Inter Quando c'è Sta Meraviglia Dietro Inter Della Bellezza Di Mamma Vincenzo Sei bellissimo Forza Milan E Bay No No Giovanni Forza Milan Si Dai È iniziata È iniziata Dai Oggi Io Ma no Quante butta La telecamera Non riesco a capire Chi è chi Allora La palla Ce l'amore Riccardi Ma no Perché la posso Prendere Madonna Mi Madonna Milan E Foggia Forza Tutto Tranne la Juve Forza Tutto Tranne la Juve Che sta Giocando Adesso Contro La Lazio Stanno 0 A 0 Tipo Ma Ce l'hanno I Pontini La Pasti Pontini Pontini Ma Che Pontini I Pontini Hanno La Questa Elettra Non so Come Cattigenca Ho Un Piccolissimo Presidente Che Tipo Foggia Poi Non So Di mano Nacellatina In attacco E Se la Passano Indietro Non Guardi Poggio Ce l'ha Piccolo Io Ce l'ho Molto Grande Ce l'ho Molto Grande Che Capisco Che Confusione Come Confusione Sarà Perché Ti Amo Immagino Madonna Mia Fa La Penna Ma Chi La Passi Passagliela Riccardi Madonna Perché La Passano Ai Portieri Mamma Quando La Passano Ai Portieri Io Mi Cagò Sop Sempre Mamma Mio Quando La Passano Ai Portieri Quando La Passano Ai Portieri Io Mi Mi Cago Sotto C'è Lai Grande Oppure Io Ci Capiamo Ci Capiamo Noi C'è Tra Bavere persone Ci si Intende Oh Ricca Mamma Silvestro No 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 Matti Matti Dai Non è manco Fallo Quello Pizza Da Bisigno Bisigno Che cosa Bisigno Un canale In te canale Si è scritto Ah Mo è arrivato Grande Una volta Foggio Sul Tirole Non ho giocato E hai finito A 39 Per il 39 Oh 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 Vince Vincenzo Vincenzo No Ciao Pro Madone Vincenzo Che tiro Brutto Che hai fatto Madone Dai 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 Forza Foba Mamma mia Il Foggia Sta attaccando In questo Momento Preciso Madone Madone Deve Il gol Che mi fa Tranquillizzare Dietro La pizza All'anas Non era Massaggiatore Del Foggia Quando stai In Serie A Ma Negli anni Novanta O negli anni Settanta Tipo Gacciate Soddisfazioni Oh Ciao La parla Vincenzo Chi è Mo Non si Vede Simone O Ger Per De Settanta Ok 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 Capisco Capisco Noi sono Subito Di soggetto Da quell'audio E 90 Maga Vabbì Oh 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 Non è fallo E che cazzo Oh Tagli il cartellino Che cazzo Non è fallo Cioè Non è Ammunizione Un fallo Del genere Cosa fai Porta Bagarei Porta Bari Porta Bari Bari Ma io il nome di Bari Non lo voglio Proprio Leggere Poi se cose brutte Proprio Bari Mi fa talmente Schifo Che non lo voglio Leggere Cioè Come Barletta Che oggi hanno Perso 1 a 4 Con la Juve Sabia Fantastico Fantastico Oh No O O G O G Con E dai Il vestro E pazzo Passa Salines No Che passaggio Brutto Oh Gudo Date del Pane Al Cane Pazzo No Non lo Gli dico Veloce Aspè Non lo Dico Veloce E questo Domenico Ma no Ma io non sono Di zone Madonna 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 Mi fai spaventare Ok Non sei di foggia Quando mi fanno La domanda Io Ho sempre paura Di come rispondere Quando mi fanno Sta domanda Io ho sempre paura Di come rispondere Quando mi fanno La domanda Vai matti 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 No Ho sempre paura Se risponde Romino Perché non sono Manchi in provincia Io Dai Ma la passano Poi la portina Di dove si Madonna No No È quel momento In cui io lo devo dire Per forza Madonna Oh Oh Matti Matti Madonna Matti Madonna Ma gente È uguale a quello Baris Eh Appunto Appunto Io sono vicino Bari E qual è il problema Il problema È che io sono Più vicino a Bari Che a foggia Che spaventare Lol Però Eh Lo so È brutto Eh Lo so che è brutto Che io sono più vicino A Bari Che a foggia Fortuna che sono Sano Dai Immagina Pagaronia Oh Amo Amo Vai Adoro Franco Quanto sei sentito La tua mancanza No Oh In mezzo In mezzo Ti verso Madonna 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 Ma comunque Io sono vicino Barletta Mamma Che schifo C'è Se io dovessi Barletta Mamma Che schifo Barletta Ma che fallo Ma che Ma da Ma sei già di parte Già di parte Che stanno i bei Sta andando malissimo Appunto Sta andando malissimo Io ne sono Felicissimo Felicissimo Che stanno i bei Sta andando malissimo Poi il portiere O P Chi era il portiere Che non ricordo Eh dai 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 E là Dico Come Fanno Chi è il portiere Del bari Che non ricordo No Non ti seguo più No 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 Oh Io ti fo Io ti fo Foggia Aspetta Barletta Mi fa abbastanza schifo Anzi Mi fa decisamente schifo Ieri Il barlet No Giovedì Il barletta Ha perso Con l'Andrea 1 a 2 Il bari fa schifo E male Ma sempre Forza Eh appunto Il bari fa schifo Ma non vedo l'ora che Di fatto se la militava Mamma mia Il lecco Proprio Brenno si chiama Madone Perina Madone ma Oti Perina Madone Madone come è santo Madone Perina Sei un santo Madone sei un santo Madone sei un santo Mamma ma Sei un santo Mamma mia Calcio d'angolo Mamma mia Cos'ha preso Cos'ha Spinto Non per Spinto Mi ha fatto prendere un copo Perché c'è stato Un copo di testa Proprio Nella zona piccola Dell'area Nella zona piccola Ce l'ha dovuta fare così Cioè Madonna Oh che cos'è questa Oh Madonna Putta è fuori 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 Via 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 Cosa vuole questo Ma cosa vuole questo Qua già se la meritava la B E certo che se la meritava E certo Hai ragione Ma io sono poi andato a vedere la partita Contro il Lecco Al gol di Leo Quanto è stato bello Oh Dai È giusto il fallo È giusto È giusto Cosa vuole Ricca Ma cosa vuole Sto scappato della Latina Mamma mia Beh oh Palla Dai Beh dai La parte Salines Mola punizione Perché Aperi Ah no Non è aperi Riccardi Salines Sulla destra Bella la palla Uh No Ha fatto Simone Toscuna Passarla Gaiano Ma ne è proprio Bella Beh Non ce l'ha fatta Oh già Mamma Ho già Pazzo Oh Bella No Oh Millico Eh Non è uscita Ok Dai Super bene L'anno scorso Ha avuto sfortuna L'ultimo secondo Eh Lo so All'ultimo secondo Proprio Pauroso Però Un po' si è goduto Anche perché Col Kai Abbiamo un certo legame Cioè Avevamo Un certo legame In mezzo In mezzo In mezzo In mezzo Madò No Amor Cosa ti sei mangiato Madò Silvestro Era Silvestro Quello fosse Silvestro L'ha presa Tipo Non so Di qua L'ha presa Capito Eh Buona Cina Ma No Che gliel'ha basata Appunto No 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 Il pontino Attacca I pontini I pontini Vanno sulla loro fascia A destra No 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 Rizzo Ti per Non fatti superare Rizzo Cazzo È angolo Latina Vinci Per noi Domenico Ma cosa Dici Mamma mia No 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 Giocatore Con numero 26 La bandiena Della Latina Però meglio della Reaction dell'altra volta Che a questo punto la Foggia perdiva Mi sa che erano peggiori Questi minuti Incredibile Perché io avrò fatto anche Foggia Juve e Stabia Forza Foggia Non vado A 4 missi allo stadio No Oh madonna No Ma dove è fuori No non è fuori No come è gol Come è gol No C'è successo C'è successo Ma cosa Sto fess Cazzo di sulta Ne No Cosa Sulta è successa Ma cosa fate Ma cosa fate Ma cosa fate Non ho capito che cazzo è successo No Sei portiere per Minchia Dai Ma che Ma che Mamma mia Possiamo avere la reazione con me Con la Juve e Stabia No mi dispiacerebbe Una reazione come con la Juve e Stabia Mi successe Rovio Un attimo Che ha segnato La Latina La squadretta Perchè che hanno perso Ha fatto il gol La squadretta E si Gaiano Non è attaccante Gaiano Per fare Se cose No E non è uscita Come non è uscita Madai Forza Latina Qual è il tuo giocatore preferito Ma di sempre In generale Ma non tiro un gol È sempre così Vero Eh Sempre così FIFA Gli AFC Simulator Oh Guardi se sbaglio il portiere Saline 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 In generale A me piaceva tanto Il portiere del Brescia Di molti anni fa Non so se conosci Arcari Il portiere di tanti anni fa Del Brescia Ma Devo Vertere Sta partita Oh Dai Oggi Oggi La Salines Eh dai Però Non è fallo Questo Ah ok Non so se Te lo ricordi Non hai mai sentito Dai A chi è A chi A Rizzo Ok Mamma mia Tanno a costruire E Non riescono a scardinare Ah Si Vesso in mezzo Si E l'ha fatto tutto di prima Vabbè Tutto di prima l'han fatto Tutto di prima l'han fatto Vabbè Tutto di prima è stato Ve lo sapevo che oggi Prendiamo No Oh Non di queste cose Oh Non dire questo Non le dire Oh Che la partita Ora è iniziata Manca ancora un sacco No Emanuele No Bravo Gabri Vadoo Cudini C'ha brutta esperienza Latina Povero Cudini C'ha bruttissima esperienza Latina C'ha brutta esperienza Latina Cudini Vadoo E' meglio A me piace di più Messi A me A me A me A me C'ha brutto di messaggio Vabbè Ti ho risposto In ogni caso Già Dai Parla a noi A noi Un secondo Va bene Va bene Va bene Chill 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 Forza Vai Sempre Ma cosa Dici Non va Bene Uh Cagliano E No Non Passa Cagliano Cagliano Non passa Proprio E l'attaccante Sbagliato Per Questa Partita Oh Ma che Soffa Ma che Ma cosa Fallo Ma che Falli Sono Dai Vince Vogliamo Alte Magie Gli ha Tipo C'è Gli ha Messo Il piede Sul C'è Gli ha Schiacciato Il piede Vabbè Domenico Vedi Domenico È guarito Ok Ok Dai Rimessa dal fondo Dai Rimessa dal fondo Era rimessa Stiamo Amo Dai 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 Simo Vai Vai Simo Ma chi Perché L'hai fatto Così Forte Gol Rubato Da Lattico Gol Rubato Non parlo Sì Vabbè Sì Vabbè Dai Non si fischia niente Qui Vai Oh 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 Amo Vincenzo Vincenzo Vince No Passa Passa Lì Passagliela Stavano in mezzo Stavano in mezzo Oh Oh Gatti Amo Stavano cercando di uscire dalla propria metà campo Perché ovviamente è pesatissimo Con Grizio Bella Dai Chi c'ha la palla Vezzoni 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 La passa Per Tascone Tascone Per Salines Stiamo sulla fascia a destra In mezzo Bellissima Per Rolando 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 Madò Calcio d'angolo Calcio d'angolo Calcio d'angolo Per il foggia Madò Vedi la laio che sta infettando la festa da merda Grazie Grazie Per la maglia c'è la bella la curva Qua si è tutta piena Minchia Se i cento e pazzo sono andati da affoggiare Quel che so io Va batter Rolando Va batter Rolando Si inizia a rientrare In mezzo Il pontino Scaccia E arriva Rizzo Rizzo Ora c'è la Millico La palla Millico Millico Prova a superare In mezzo In mezzo In mezzo Madò Icardi Lo stai sbagliato Però tocca il giocatore del Latina E va in fallo laterale Madonna Vezzoni 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 per Rolando Rolando La passa a Uger Oger Per Rizzo Millico Per Tascone Rizzo Fa un campanile Per Gagliano Che non riesce a recuperare Il Latina Poi va il contropiede Mamma Mi E paura Che c'ho Mo Mamma Mi Cagata addosso Che c'ho Cagata addosso Che c'ho Subito Subito Nelle parti E la gamba Sì Mangia per mangiare Oh Gagliano Ma chi Gagliano col petto Così Cos'ha Passi Pazzo Il potere della Latina Però Rinvia Bene Cascone Il pallone Oger Rizzo No Rizzo Salines Salines Confusillato Riccardi Rizzo Palla per Vezzoni Millico La Verticalicazione Per Vezzoni Pazzo Pazzo Rizzo Però riesce Millico Dal pallone E si accentra La passa Verso Salines La mette fuori Salines Per fare Il fair play Il giocatore della Latina Rimasto a terra Quindi immagino Io comunque Vivi in Abruzzo Tu almeno vivi In una regione In diversi Vivi nella stessa regione Dai almeno Ma che sei di Pescara Dimmi che non sei Di Pescara Mamma mia Si è rialzato Subito Il giocatore De Latina Terra Si è rialzato Subito Beh Medi Messina E' sicura Si è rialzato Subito Magic Magic Shock Ed ora Si ricomincia E ora La spazza No di Pianella Va bene Ora Perri nel pallone Si ricomincia Da capo Rizzo Riccardi Salines Non riesce A farla passare Scopo di intacco Incredibile Poi Pontina Nel pallone Torna A metà campo Foggiana Ora Pascia a destra Ritornano No Non ritornano Continuano A fare Un'azione Offensiva E vi ho si rialzato Subito La spazzata Silvestro La Tina è in attacco Ora La Tina è in attacco Silvestro Ha il pallone Se lo fa soffiare Non è farla Spallata di gioco È contatto di gioco Ok La seconda La passa Perinna Che la passa Verso Bezzuni Chi è questo Bezzuni Oger Riccardi Daiefo Bravo Pietro Bravo Palla Per Salines Rolando 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 Oh Cosa Falla Rolando Di nuovo Dalla rimessa laterale Rolando La metti in mezzo No C'è deviazione Vai in calcio D'angolo Calcio D'angolo Calcio D'angolo Mamma mia Batterà Rolando Con Sinistra Rientrare Oppure La batte Mildico Aspetta Che sta Anche Mildico Ok Rolando L'ha passata Mildico Rolando 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 In mezzo Di nuovo Calcio D'angolo Ti prego Ciao Carissimo Il Brody Benvenuto Mildico Con il destra Uscire La vuole mettere In mezzo Mildico Mildico Parla Sei andato Sul pontino Raffaele Contropiede Il Latina Rinvia Malissimo Mamma mia Che paura La passa Rolando Perina Però Passaggio corto C'è Rolando Nella Difesa Foggiana Rimessa Dal fondo Salve Benvenuto Rimessa Dal fondo Aula Di Ciao Carissimo Dimmi tutto Dai recuperiamo Stiamo andando bene Dai Stiamo andando bene Dai Ce la si fa Dai Oggi Salines Oggi 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 Quarto Mi sembra Del Foggia Il quarto E tutti No Mi sa che Il Quinto Ed è il quarto Da Sinistra O Destra Dipende Da come si Guarda La partita Rolando La passa Ben Millico Millico Senta il tiro Millico Avrei Spinto Rezzoni Ha preso L'arbitro Ha preso L'arbitro Quindi ora L'arbitro Deve rinviare Il pallone O deve dare Verso Il foggio Immagino No Ma c'è Tu volessi Salutato Scusami A me non escono i messaggi così Io vedo Senti I messaggi principali Allora E il latino E il latino in attacco La mette Latina Malissimo Perché Facile Preda Delle braccia Di pirina Che la passa Subita Icardi Tascone Tascone Ve la controlla Si fa un po' di campo E la passa Subita Rizzo Rizzo La passa A Pirina Rizzo per Pirina Palla Icardi Si Tascone Per Oger Si un figo Mi saluti Ciao Samuel Gli stiamo parlando Di un bel pezzo Uh Dai E dai Che ce la possiamo fare Che ce la facciamo Però poi Ha il vero Il gol Non è fallo Non è fallo Non è Non è Non è Che fallo È Vabbè Andate Il fallo All'attima Dai Pensiamo Positivo È certo Che si pensa A positivo Bisogna Vincere Oger Non riesce A recuperare Latina Sulla fascia Destra Stanno attaccando Pesantemente E ora Sulla fascia A destra Vezzoni Recupera No Palla ancora Latina Prendermi la pizza Quando finisce No Inizia il secondo Tempo Orlando Recupera Gagliano Non riesce Palla al portiere Dell'Atina Che fame Ma sono le 7 Famici L'agenda Le 7 Calines Calines Recupera Lo so che mi invidi Madonna Tipo Tire Tire L'Atina Recupera Con le mani Dopo che gli hai fatto Un tiro Ma dopo 10 minuti Pazza Eccomi Mazzos Salve Non è fallo L'Atina Nel pallone Recupera Recupera La partita Eh Vabbè L'Atina Affoggio C'è un bel po' di fumo È una cosa brutta Vero È bruttissima Vizzo Per Non si capisce C'è il fumo Gagliano La porta a passare Per Rolando Tipo di test Controlla Con due colpi Di test Oger Recupera Il pallone Oger Salines Sto volando Volando La passa Per Silvestro Salines Buona Pasqua Quella è domani Quella è domani Tranquillo Quella è domani Grazie Grazie Ti vedo È bruttissima Palla per Silvestro 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 avanza Ti metti in mezzo Non riesce Recupera il pallone Io recupero Oger Tascone La passa Rolando È fuori gioco È fuori gioco Fuori giochissimo Uff Mamma mia Che buona Che è domani Sì Si Tende domani Oh Latini In attacco Il pallone L'attaccante La metti In mezzo Non c'è Nessuno E già Recupera Minchia Il fallo Rifai La punizione Dice L'arbitro Perché Si stava vedendo I due Batti Beccare Saline Se la passa Subito Riccardi Avanza Riccardi Palarpide Passa Verso Rizzo Non riesce A sfondare Milico Latina Il pallone Milico Ruba Palla Non c'è Fallo Però Milico Rimane a terra E si rialza Ok Si rialza Subito Mamma mia Mano Milatina Attacca Sulla fascia A destra Latina Fa una bella azione La metti in mezzo Pierina Prende Palla Tascone Che la passa Subito Silvestro Salines Riccardi Salines Si fa un bel Palla Salines E Il faro laterale Per il foggia Madonna Mi Non è riuscito A tenere bene La palla Il giocatore De Latina Paveglia La soffiata Salines Mamma mia La paletta Stralutata O lottata Aspè Niente Il faro laterale Per il Latina Madonna Ludini D'indicazione Ai suoi Madonna Madonna C'è delle brutte esperienze Te ha latina Quindi Non 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 Vendrei più A latina Ti prego C'è delle bruttissime esperienze Già l'anno scorso Dalla salvezza Ai play out Che hai rischiato Di ottenere Con una squadretta Ovviamente Che A malapina Sta Perdendo Il campionato Niente Foggia Dentro Casa Foggia Per il Foggia Alla palla Rolando Per il faro laterale Rolando La passa A Tascone Tascone Auger Passa Subito Tarrizzo Passa Sinistra Palla Vezzoni 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 Gioca Metti in mezzo Recupera Gioratore De latina Palla A millico Che Palla Passa Di testa Millico Il pallone Millico Millico Ovviamente In mezzo Ed è calcio D'angolo Calcio D'angolo Per il Foggia E ora Si sente La carica Quanti anni Hai io Noi 19 Sono giovane Sono giovane Ancora Sono ancora Giovincello Giovincello Ancora Millico Col destro A rientrare Dovranno Deporrente Sul secondo Pallo La metti In mezzo La metti In mezzo Tascune No Troppo col piede Oger Recupera Non riesce Oger Tascune Controlla E recupera La palla Palla Vezzoni Che si abbassa La difensore Oger La passa Di testa Gagliano Non riesce A recuperare Gagliano Ma che cos'è Mado So giovane So vecchio Pallo Per il Foggia Se la Capiscono Tascune E Di Livio Capitano De latina Madonna 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 Rolando La passa Oger Oger Per Vezzoni Non mi sembra Vezzoni Mi sembra più Millico Vabbè Salines Salines Non riesce A far passare Bene la palla Salines Cosa fai Palla Per Vezzoni Che la passa Giocatore Dell'atina Che non riesce A recuperare Quindi va In falo Laterale Cosa sta Succedendo Cosa Succede Cosa sta Succedendo Comunque Ripresa Lazio Juventus Minz Ripresa Già Lazio Juventus Stanno 0-0 Vinciamola Certo Che la Vinciamo Tascune E fa Fai Fallo Olè Un po' Di Pepsi Dai Quella Che costa Meno E Da Più Cola Cazzo La coca Costa Di più E c'ha Meno Questa è Un litro E mezzo E costa 1,40 L'acqua 2 euro 1,35 Mi ha mangiato No Oddio Latina Talina Sprovvidenziale Riccardi Passa Porta Perina No Non ho ancora Mangiato Io mangio Dopo la partita Io mangio Dopo la partita Eh lo so È brutto Però io mangio Dopo la partita Perché sono abituato Già sono abituato a mangiare Per le 8 e mezza Tipo Quindi Noi al sud Siamo Più o meno Di questo orario Dalle 8 In poi Non so Secondo me La vince La Juve Ma si che I Cine Si mangia 9 8 Sì 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 Eh sì Vedi Oh Palla Palla Millico Millico Vuoi mettere Mezzo Volando Ma non Volando Cosa ti sei Mangiato Cambio Vado Ma è una ragazza È qui È qui È odia A morte Mangiare Dopo le 7 Oh C'è la palla C'è la palla Millico Millico Non riesce a sfondare Mi viene in supporto Nessuno Effettivamente No 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 Latina Saline Scopre Non è Non è fallo Non è fallo Non è più Che poi Perché Non sa Lui Si va di nuovo Su Twitch Sì Vabbè Dai Ma non esageriamo Non è così Importante Si è fatto male Salines Si è fatto male Salines Facendo Ai medici Di entrare Che è successo Qui Eh Non è fallo Non è fallo No Non è fallo Non è fallo Ricordiamo Non è fallo Giustamente Non è fallo Figurati Se non è fallo Dai Dai Stanno inquadrando L'acqua Ma già Di giocare Sono le 8 7 e mezza Tu di dove eri Nella Abruzzo Eri Ti è giusto Mi sto confonendo Con un altro Non è fallo Ma No Non è fallo Non è per niente È fallo Mi faccia In 10 Adesso La pallina avanti Ha orientato Già Salines Ok La metri La latina Va sopra la porta Si Si Abruzzise Tu vuoi compararti All'Abruzzo Tu vuoi comparare La Puglia All'Abruzzo Che è proprio Al centro La Puglia È centro Italia Grazie Che si mangia Un po' Più Prima Cioè Non lo so Ma hai fatto giù Perfetto Dai Mi ricordo alcune cose Dai C'ho una bella Memoria ogni tanto C'ho una memoria ogni tanto La latina La latina ha il pallone Stanno parlando All'Abi Di giocatori Del Foggia Mette stella azione Mette stella azione in corso Perché La latina C'ha il pallone Saline si lo toglie Ma non Non era fuori gioco Quello Possibile Non era fuori gioco Quello Ma c'è calcio D'angolo C'era Davantissimo Non è Assolutamente Che contento Lui Contento Lui Ma Riccardi Con Desta Rientrare Talmente Rientrare Che È andato Oltre il secondo Palo E non ha preso La testa Di nessuno Che è in Riccardi Riccardi Per Rizzo Rizzo Che Sta sbagliando Rizzo Ma no Alla Oger Oger Per Millico 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 Se la può aggiustare Sul destro E si può anche Smarcare E da solo E la passa Per Vezzoni E la ripassano Malissimo Rizzo Ora Azione In contropiele Dell'Atina Stanno sulla fascia Sinistra Con numero 77 Stai l'Atina Ora Proviamo ad accentare La mette in mezzo Rilancia Via Alla Vezzoni Vezzoni La passa Millico 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 La ripassa Vezzoni Vezzoni Passa Millico Millico La mette in mezzo Col sinistro Non riesce Non riesce a entrare Tascone Tascone si ritrova il pallone Sui piedi La passa Silvestro Silvestro La passa Rolando 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 in mezzo Rolando la palla Rolando La passa Oger Oger Tascone Tascone Prova il tiro Centrale Ma tu Antrio Che cazzo No Wait Non farlo Di queste cose L'importanza sta vincendo Col corotone Oddio L'importanza sta vincendo Col corotone Oddio Oh madò Oddio Madò Che bello Che bello Tipo No no Su questo Cioè Se non rispondo Ti veste Allora Attirare Per il foggio Ti prego Che cosa Cioè Che ti chiami In un modo Particolare Cioè No Non particolare Che Ti chiami Così Ti veste Non recupera la palla Già Recupera Fallosamente Si Fallosamente Non mancano 15 minuti 15 minuti Non mancano Pochi Secondi Hai 15 Minuti Di pausa Ti voglio Bene Grazie Grazie Un minuto Di recupero Un minuto Di recupero Ma Complicato Recuperare In questo Minuto Di recupero Però Tutti Secondo Tempo Tutti Secondo Tempo Ma Laterale Per il Forgiata La loro La loro Zona Madonna 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 Che brutto Che brutto Questo periodo Dell'anno Realmente Un altro Paro Laterale Che brutto Che brutto Che brutto Che brutto Devono Fai In frettissima La spazza Verso Il portiere Che recupera E fischia Ora L'arbitro Madonna Madre Batico Mi viene Mi viene Batico Pubblicità Subito Dalla Volkswagen Dalla macchina Comunque Si sta a fare Barbecue Malissimo Bellissima Se neanche Cioè Proprio Non solo Luka Ma anche Sky Suo campionato Bellissima C'è ragione Una Zero Latina Affoggia Mamma Che brutto Che brutto Che brutto Se vuoi chiamarmi Nome Samu Eh si Preferisco Samu E' molto Più Facile Da ricordare Diciamo Un pochettino Più facile Da ricordarsi Samu Dai E' più Facile Dirlo Chiamarlo Comodo E' comodo Dalla macchina Più della Ferrari Effettivamente Hai ragione Però hai Decisamente Ragione Per la macchina Allora Quindici minuti Di pausa Quindi Ci sono Quindici minuti Di pausa Ma Madonna Voglio Giocare La switch Ma Che si Proprio Fissata Vabbè Nel frattempo Che Parliamo Muore Da parlare Ma si Parla Ma si Deve Proprio Parlare Della Partita Chi si sta Vedendo La partita A parte Cioè Oltre alla Mia Reaction Chi si sta Proprio Vedendo La partita Di suo Proprio Per capire Forza Milan Forza Inter Ander Vai O Che cosa Forza Vai Dai Vediamo Ciao Questi ovetti Vedi Regalo Subito Sono i Cosi Del Milan La squadra forte Di Milano La squadra forte Di Milano La squadra forte Di Milano In Milano Come Pensate Stia Andando La partita È un risultato Giusto Si Lo so Grazie Particolare Poi fanno Vedere Godzilla Kong Al 62 Siamo Stando Al 62 C'è un mini Cestino Per Do Cassione C'è un mini Cestino Il Cazzo È Brutto Il Robo Del Milan 42 For È La Madonna Mi faccia Schifo Quello Che Dici Anzi Mi farebbe Molto Piacere Vincere A me Vincere Farebbe Molto Molto Piacere Te lo Dico Onestamente Però Se va Così Va Così No 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 Che Non Per Che mi Scriviste Le cose Ma Resta Sì Vabbè Ma Sì Ma Molto Di Destra Mi Dì Che Sei Di Destra Va Bene Fa Tempo Vado A limonare La Mia Ragazza Signore My Girlfriend My Girlfriend My Girlfriend My Mette My Girlfriend Questo Giocando Il Foggia Dopo Il Goal Inizia Tra A Fare Più Attacchi E Inizia Per Un Beppo Più Di Attacchi E Ha Rischiato Di Pareggiarla Comunque Benvenuto Attica Foggia O se Il Foggia Ce La Fa Recuperare Due A No Buona Mamma mia Buonasera Oh ma Ti sei Iscritto Te Mattia Perché Ho Visto Più Ora Mmm Boh Se ti fosse Foggia Bravo 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 Siete Tutti Di Foggia Qua Quasi Tutti Alcuni Sono Dall'Abruzzo Altri Non Sono Dall'Abruzzo Io Sono Pugliese Ma Non Di Foggia Ma Cos'è Successo Qual Gino Lisa Che Vi Do Le Notizie Che È Successo Qual Gino Lisa Mmm 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 secondo me è un certo in toscana sono alto a san giovanni rotondo sei nato te non giovanni rotondo sei te quindi già mi va a missina ecco di che abbiamo sconfitto 0 a 3 ma che bello pure io sono andato a vedere foggia missina l'andata è finita 2 a 0 tipo no sono tra video non faccia missi no facciamo e si sono attraverso direi io do a zero fini a novembre foggia missi mi sa che l'ultima partita che ho visto una ristorante di già ristorante stai però possibile c'è la partita ama a foggia fanno della partita che sono sempre quello della bruce eh che intelligente beato scusami chi ama la pizzeria perché di una pizza già c'è non è che devi aspettare la fine puoi già chiamare cioè lo sai cosa piace a me tanto lo sai cosa piace a me sei bisogno tanto sei grande chi ama voglio una pizza diavola e una margherita cioè non lo so che bello allora ma tra 5 minuti circa riprende la partita ma ne fa tempo vi mostro la roba bella togliamo per stasera togliamo il giochino brutto che sto facendo su youtube magari dopo la dieta ve lo potete recuperare princess picciota madonna che schifo ma di vita la migliore io sono andata a pescara sono andata a castellana e più a pianella un castellano questa super piense che stasera ma non è questo ma non è schifo ma non è schifo ma non è schifo questo è per chi per là stasi la schifo persi il mondo allora sposta sposta la meraviglia, la morenia, l'altra morenia, e prendiamo questo, ole, lo stiamo mettendo, almeno occupo i minuti, lo mettiamo già, allora, oggi ricordo, stanotte si cambia l'orario, comunque ho messo il gioco, vedete, ho messo, quindi da due orette mi vedrete su Twitch, faccio doppia diretta oggi perché c'è la morenia, allora, mo, cosa mangerete stasera? Tutti i pizza vogliono mangiare stasera, è vero? Io non so neanche se riuscirò a mangiare stasera, mangiare prima delle nove e mezza, potrei ordinare su dei livre volendo, vediamo, se riesco a trovare qualcosa, tanto ho una spedizione ingratuita da io, oh caccio, se sta, vediamo, no, non c'è niente, mo, ordinare da mangiare è un casino, per diavola, zucca nord e sud, norcina, orcina senza fruto, scusate, dai, ordiniamo questa, poi, no, 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 questo ho fatto, così nella gratuita non ce l'ho sempre gratuito perché c'ho dei vero plus, giusto? wait, perché? consegna premium, che fai, in quel senso che faccio? parla! buona pasqua, grazie, samuel, grazie, a me la pizza, come a te, ordini, margherita, senza lattosio, cattivo, io cattivo, poi devi scendere a te a prenderla, eh, perché io sto vedendo la partita, mi saluti, sei migliore, sono samuel, ciao samuel, carissimo, grazie, 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 spese di consegna, scusa, vai a chiedere un attimo di là, se ci sono piani per stasera a noi, scusami, non è meglio, prima di fare, lucatoni, che fa la pubblicità, con lucatoni, lucatoni, pubblicità con lucatoni, e sta per ricominciare latina, foggia, 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 dagli, vincere, vincere, oggi vincere, non accetto altri risultati, ecco ovviamente, squadra, tra l'altro, quattro squadre, 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 quattro squadre, è proprio squadretta, contava poco, contava poco, trucchi, non in, salve, salve, oddio, che cosa è successo, ma no, tocchino, sto vedendo la partita, dei miei campioni, quelli che ho qua dietro, i campioni dal mondo, signore, vedete che bello, my girlfriend, guardate, my girlfriend, sono sano, sono sano, sono sano, sta entrando, il foggia, dai ragazzi, dai ragazzi, vincere, dovete recuperare, sembra che non ci siano sostituzioni, sembra che non ci siano sostituzioni, sembra che non ci siano sostituzioni, vediamo, 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 vincere stassi, mi sembra che vincere stassi, ma quando vuoi, batterà in latina, ci stanno sostituzioni, non credo, batterà in latina, ora, dai, dai, vediamo con l'inizio di secondo tempo, è iniziato il secondo tempo, latina, possesso palla, madonna mia, vediamo, 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 oh, il dico recupera la palla, fallosamente, minchia, il millico, Riccardi, il millico che fa interventi difensivi, la latina batte, subito la punizione, minchia, la moto che passa, attacchi la latina, Rizzo la passa perina, però, anticipando, palla per Rizzo, Rizzo, Gagliano recupera male, la palla, Gagliano, cosa hai fatto, madonna, pronto che sarà bavezzone la situazione, Rolando, si mette, prontissimo, buona Pasqua a tu, grazie, 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 dove sta la partita della Lazio, 0-0, stanno, so già che non riesce a uscire, ora, invece ora ci può uscire, parola il portiere della latina, che viene presciato da Rolando, però spazza, Tascone, Oger recupera, Oger, per Vezzoni, Vezzoni, Vezzoni prova, Vezzoni, mezzo, basso, brutto, è giocando da FC 24, oh, che squadra si usa, mille, ecco, mille, con i mani a Tascone, Rizzo, Tascone, Rizzo, indietreggia, adesso Icardi, palla a Rizzo, mille, che porta a superare, si fa smarcare, e palla, uh, palla per, il latina, moda, messa laterale, laterale, vabbè, rimessa laterale, stas' identica, insomma, mette in mezzo, il latina, ma passa proprio portiere, Rizzo, Tascone, no, recupera, niente, Riccardi, Alines, Riccardi, per, Frizzo, fa la Vezzoni, che la fa passare da dietro, ma, non c'è nessuno dietro, non c'è nessuno dietro, Madora, Cadi, per, Perina, pazza, Perina, Martina, possesso, palla, oggi, 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 passa Salines, Salines, avanza Salines, la passa Silvestro, Silvestro, la ripassa, per Tascone, Rolando, passa, Vezzoni, che la passa, Rizzo, velocemente, Gagliano, cosa ti sei mangiato, cosa ti sei mangiato, te ne devi andare, te ne devi andare, te ne devi andare, madonna, ormai fatto, oggi, R passa, verso Millico, che stoppa, e la passa, verso Tascone, Tascone, la passa, verso, malissimo, voleva passarla, verso Silvestro, e ora, è tipo, fallo a tirare, per il Latina, madonna, 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 come si fa, tipo, come si fa, come si fa, non vincere, la partita, si, come si fa, alla, Salines, Tascone, Rolando, 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 ti fa rubare, il pallone, io lo recupera, Rolando, Rolando, pazzo, Rolando è pazzo, però recupera, non recupera più, ciao, Nicola, che squadra, attifita, Riccardi, fuori gioco, madonna, no, ma che fuori gioco, Roma, ma, ma, quindi, tu, ora, stai tifando, Juventus, giusto, quindi, stai tifando, Juventus, eh, te gusta la Juve, no, il romani, sta, vabbè, vabbè, te gusta, eh, no, come no, c'è Lazio Juve, il Latina, il Latina, il Latina, non è fallo, no, 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 Rizzo, hai recuperato bene il pallone, Rizzo, Tascone, per Rizzo di nuovo, eh, Riccardi per Salines, Bezzoni, Ogier, 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 palla per Silvestro, niente, non è andata per niente bene, però è fuori a tirare per il Foggia, non ho visto il contatto, quindi non sono sicuro, c'è un giocatore del Foggia fuori in campo a terra, però si è rialzato subito l'arbitro, fa un bel battibecco, come un giocatore della Latina, quindi, bravo arbitro, si è guarito, bravo arbitro, sfavorisci di, ah, la monito, perché sta scrivendo sul tacuino, oh, vedo che fa così sul tacuino, immagino l'abbiamo monito, ah, no, è punizione, ah, ecco, la passa, il vesto per, no, ma c'è la palla, il vezzoni, è parte di recuperare palla, vezzoni, è successo, vantaggio per il Latina, il Latina avanza sulla fascia destra, non è rigore, ma il rigore è quello, non è rigore, l'abito c'ha ragione, falla avanti, non riesce a recuperare il giocatore della Latina, no, il vesto è proprio un terreno killer, da vantaggio, no, fischia fallo, senza cartellino però, per fortuna che senza cartellino, quindi che si dice? Oh, non mi risponde neanche, che si dice? E non parla, vabbè, fatti un quarto, ok, vuoi parlare però, eh, cioè, me lo devo leggere sulla chat di YouTube, vabbè, la barriera mette, madonna, c'è Milik in barriera, madonna, la barriera, ma la c'è ancora 0 a 0, aggiungere, del sole la mette, no, la mette il giocatore dell'alt, capitano di Livio, però laterale per il Foggia, Salines va alla battuta, del faro laterale, del faro laterale, Oger, 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 Rizzo, ti chiedevo un passaggio un pochettino più lungo, Oger, ma passa Perina, ok, Gagliano non riesce, recupera il potere del Latina, prova, se infortunato il giocatore dell'altina ha avuto tipo un infortunio muscolare, si è infortunato in maniera muscolare, non vedo l'ora di andarmene da sta festa da merda, ti dà un motivo in più per andare, perché lei ti stradisce con me, Ma almeno ho mangiato, ma tu hai mangiato la lingua di Kelly? No, io sì, io sì l'ho mangiata, eh, che fai con Kelly? Io mi sto limonando la mia ragazza, vedi, Guardate se mangiamo, se ruba tutte le patate dei bambini, i bambini piccoli, se ruba tutte le cose dei bambini piccoli, ma, stai intanto col numero 13 dei Santis, per il Latina, credo sia un difensore dei Santis, credo, mi sono comprato un pacco, un pacco, un pacco di patate, di quelle della San Carlo, dell'Islande, poi i bambini, cattiva come i miei, parlo laterale, per il Foggia, che ridarà il pallone alla Latina, per fair play, nole, Tascone, Tascone Silvestro, Silvestro, è andato a sbattere, contro i led, la spalla, no, sono quelli dei salati, prezio, Maddo, quanto costavano, 50 centesimi, Latina, è una propria metta a campo col pallone, c'è con un modo per entrare nell'area avversaria, stanno davanti alla propria tirigola adesso, sulla fascia sinistra, intervini, Silvestro, a che ora passa Salines, Salines, all'inmezzo di, un, un, due euro, un pa, due euro, ma sono grandi, mica sono quelle piccole, sono grandi, immagino, palla, Tascone, Tascone, amore, perché non me ne manno più, costano pure il doppio, quelle gigantesche, Riccardi, per Tascone, ben millico, millico, tira, pezzoli, nato, cosa ti sei mangiato, Franco, non recuperare a Tascone, sì, non sono quelle piccole, per fortuna, Latina in contropiede, non riesce a passare, non c'è fallo, Tascone, riparte, palla, per, millico, 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 ribattuta, millico, ritieni palla, passa bene per Rizzo, ma, non arriva in tempo, palla per il Foggia, ma già i pagheri, una festa, non gli usi, non ti pare che te le compari, ma andiamo a casa comoda, madonna, stanno facendo le reazioni, che si è mangiato, la polizia è già stata battuta, che non ho visto, com'è andata, però, se non è entrata in botta, già capisco, millico ha il pallone, dai, passa Roger, 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 si investono, riesce ad arrivare, ed ora è rimesso dal fondo, per il Latina, comunque ragazzi, mancano 53 iscritti, per arrivare a quota mille, stiamo spiddando, verso questo obiettivo, oh, già, oh, già, non riesce, a parte, qua, mi sono fruttato, gli anelli di pizza, dei bambini, dici, che sei una bambina, vabbè, che sei ancora minorenne, sei bambina ancora, è giustificata, il Latina, il Latina, tiro fuori, che brivido, Mastroianne, ha rischiato, di fare il 2-0, e mettere quasi, in cassaforte, la partita, Piena, batte, Piena per Rizza, Pezzoni, Millico, sull'assist di Gagliano, allora, per Ogier, Ogier, Tascone, sono un po' buoni, palla sbagliata, per Millico, ma recupera la palla, Millico, il pallone, fallo, punizione, punizione, il Foggia, ma punizione, da Mattonella, molto interessante, e chi la tirera, la punizione, vediamo, chi batterà, la punizione, madonna mia, brivido, ma c'è il brivido, mmm, stanno parlando, Millico, Gagliano, e Rolando, per capire, come batterla, stanno tutti a testo, sul pallone, stanno 0-0, stanno 0-0, ma, Lazio e Juve, Temba, voglia tirare, Tascone, è un tiro bruttissimo, sopra la porta, mancano ancora, 30 minuti, con recupero, 35, dai, poco più di mezz'ora, manca, per, fine, più recupero, non è ancora tutto deciso, è un solo gol, e l'importanza, sta ancora vincendo, col crotone, perché non dovrei giocare, appunto, a Spartan 2, mazza, Pastoriani e Cooper, Auger, Rolando non riesce, palla per il portiere, spazza in maniera, un po' brutta, Rolando recupera, non riesce più a recuperare, azzio, salute, grazie, 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 devo salutare più volte, Millicola, passa benissimo, Tascone, spero sia Tascone, ah non era Gagliano, che fallo è, ma che è sto fallo, però c'è, sostituzione, per il Latina, due cambi per il Latina, entra Mazzocco, buonasera, buonasera, anche a te, hai preso il pizzone, il pizzone, l'hai preso, il pizzone, so che pizzone, ha segnato la Lazio, con il numero 77, ha realizzato, Adam, Marusic, vantaggio, della Lazio, sulla Juventus, Adam Marusic, la Lazio, che ora è settima, in classifica, una Juve, che ormai, può dire addio, al sogno, dello Scudetto, incredibile, dopo una partita, di, proprio, contenimento, di Juventino, sono finalmente, riuscita a sbloccarla, alla fine, proprio della partita, andando anche, Benotti e Cooper, a te latina, ma a metà campo, numero 2, sta ora, adesso recuperai, pale e foggia, quindi, recupero la pezzoni ora, baglia, appoggio le pezzoni, bichetto mi viene, aperto papà, rizzo, 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 non verticalizza, nessuno, e arriva, palla al portiere, palla al portiere, recupera, non fallosamente, oggi, Tascone, volando, si fa fermare, non fallosamente, non fallosamente, non riesce a recuperare, Salines, latina, ancora in attacco, sulla fascia sinistra, è finita la Lazio, ha vinto, 1 a 0, col gol di, Adam Marusic, con assist, Matteo Guendouzi, latina, che rischia, colpa che parla, tira, con la 150, ah, allora, è giusto, due ergo, dai, si mangia, 50 grammi di patatine, come cazzo hai fatto, ma da sola, no, ho già recupera, parla a Tascone, Tascone, provate ad avanzare, Gagliano, parla a Saper Millico, Millico, Bezzoni in mezzo, bruttissimo, era più simile a un tiro, solo che è andata, ben su, per la porta, ma ne ho lasciato un po', già, abbiamo visto, con il gol di Marusic, hanno schiacciato, entra, con il numero, 28, e con il numero, 9, entra, Di Noia, per, anzi, entra, Riccardo Tonin, per il numero, 37, Gagliano, bravo, dai Riccardo, dai, dai Riccardo, adesso è con il numero, 26, Simone Tascone, ed è con il numero, del dotto, Giovanni, di, no, Gia, dai, 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 e Luca, non è stata la tua partita oggi, dai, speriamo che, Tonin, dia più movimento, Tonin, dia molto più movimento, alla squadra tonin va subito a pressare la a metà campo latina cadi spazza e arriva di noia che la colpisce di testa malissimo alla latina sulla fascia destra affronta vezzoni numero due della latina che la passa indietrissimo alla che supera la metà campo palla per la difesa della latina superiamo di nuovo la metà campo fascia destra triangolazione supera tutto difesa libera il latina segni latina 2 a 0 con una triangolazione spettacolare ma la fanculo mettono ormai in cassaforte una partita che hanno dominato ben poco ma non è ancora finito niente triangolazione spettacolare poi un passaggio che supera completamente la difesa Pierina può ben poco perché la spedita proprio sotto la traversa questo numero 29 non ho visto un nome quale ed ora 20 minuti per recuperare due gol per recuperare due gol adesso e ora si fa tragica riccardi sta fermo vaiano i passaggi però recuperano recuperano male fallo per il foggia oggi è millico vezzoni controlla male vezzoni dove latina si può proprio amministrare la partita cosa significa castello 90 minuti? cosa mi significa castello? invia però va giusto giusto ai piedi di noia la mette per silvestro calcio d'angolo una fortezza tutti dietro vabbè il tipico gioco della juve ti aspettavi il tipico gioco della juve eeeh eeeh e mo hanno segnato proprio mo proprio mo volando parla per millico che la mette in mezzo mette in mezzo tocco di mano calcio di fuorigioco come fuorigioco ha dato fuorigioco e ora possono perdere altri secondi palla per metà campo per ger pezzoni per per tonin per fuorigioco era bella l'idea per tonin la punizione eeeh basta stanno sulla fascia a destra di noia per millico due contro uno non riesce si fa sportare da di noia di noia non viene fermato non fallosamente di noia recupera viene fermato ora fallosamente batte subito per millico 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 nooo millico in giampa sul pallone per fare tutto di fretta rizzo recupera però nessuna recupero roger 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 tenta il tiro roger sporcato ed è ora calcio d'angolo rolando abbattuta stanno tutti in area di rigore rolando la metterà in mezzo con un sinistra rientrare ma la passerà la mette in mezzo rolando il pontino spazza recupera roger per rolando rolando la mette in mezzo rolando il pontino scaccia via ed è un altro calcio d'angolo per il latina ma va a vezzoni o va millico a battuta va millico a battuta c'è millico con un destra a rientrare mette in mezzo lontanissimo dalla porta rimesso dal fondo perdono alti secondi preziosi a cattapalle ora ovviamente con due gol di vantaggio possono amministrare molto bene adesso non so non so vezzoni di noia supera millico arriva la passa vezzoni di noia alla grizza mi dà la live in verticale l'ho incontrato da la live in verticale oh noo millico ha fatto a passare di testa a tonin che non riesce a controllarla e arriva al portiere della tina la metà terra si avvicina a tonin si è avvicinato proprio timidamente recupera palla rizzo di noia no rolando è sconuscita mi confondo sempre sono molto simili da lontano come una telecamera così sgranata vabbè rizzo pezzoni alla tonin ecco che ha difesa della latina fa proprio fatica e latina ora il rischio il brivido una pallone ma va vicino a ger passa sinistra contropiede no colpo di testa e palla sui le mani di peina riccardi la passa peina provano a ricostruire piano piano non può andare costruire ma è un po' complicato oggi è rizzo per vezzoni la passa a millico per mamma mia che brivido era vicinissimo rolando rolando recupera la palla rolando rolando però non trova la porta vezzoni 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 tira una bomba sul vetro sulla rete del della curva della latina che non è neanche una curva perché la curva è tipo la loro gradinata non capisco perché e dove poter perdere altri secondi alla rinvio madonna mia cosa sta succedendo qui aiuto pazze poter della latina nessuno recupera la palla ma recupera un giocatore della latina palla sulla fascia a destra guarda la vezzoni che non ha nessuno per la latina riccardi per di noia di noia per rolando 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 avanza rolando viene fermato non fallosamente ma non gli importa niente latina spazza e arriva sul il petto di vezzoni millico per rizzo metti in mezzo rizzo toninci prova in testa ma non riesce eccomi però sei tornato cos'è successo cos'è infatto cos'è infatto curatore della latina a terra al finire sul switch è divertente minchia si sta giocando a zoom 11 questo sta per entrare con numero 23 califa mannè e il mannè si esce con il numero 10 vincenzo millico entra con il numero 23 califa mannè entra mannè prendere il posto di millico adesso ma ne ha avuto pochi spazi in stagione vedremo come si comporterà in questi 10 minuti salines rolando rolando silvestro per riccardi quanto manca 10 minuti palla in foro laterale per il latina sulla destra rimessa laterale che tu entri tantissimo ovviamente a battere recupera guardatore della latina a terra di noia passa per Vezzuni che passa basso non riesce però rolando a ripassare stanno passeggiando ora sul campo recupera palla silvestro che è fatto rubare palla ora faccia sinistra per il latina latina mette palla in mezzo non c'è nessuno recupera Vezzuni Roger Roger viene fermato fallosamente mancano una ricerca di minuti con recupero incluso si intende entra con il numero 11 fella della latina adesso c'è il numero 7 madonna mi madonna mi ci vorrebbe un miracolo il potenza sta pareggiando 2 a 2 col crotune non va per niente bene questo risultato diciamolo non è un risultato accettabile al frattempo formazioni dagli altri campi il Dortmund sta battendo il Bayern Monaco l'Aston Villa sta vincendo 2 a 0 con Wolves la Giannermine sta vincendo con Fiorenzuo il Mantua sta pareggiando con l'Atalanta che lì fa mane parlo laterale per il Foggia la versione abbattuta la passa verso di Noia che non riesce a recuperare bene il pallone fa la latina di Noia poi gioco poi gioco ah no fallo per il latina no ah no ha toccato l'arbit ha toccato l'arbit il pallone tutta la confusione non si è capito niente e in finale di Converse tutte e due la fine ah hai paura dell'Aston Villa ah facciamo molte cose esce Perina pazzo Perina e si è rischiato il 3 a 0 ora Silvestre ha recuperato il pallone può avanzare sulla fascia destra si accentra ma passa per Rizzo Vezzoni Vezzoni viene contestato ma recupera tiene il pallone Vezzoni per Rizzo Rizzo la mette in mezzo palla per Tonin non riesce a tirare recupera il latina era la palla che recupera Vezzoni di Noia attento un tiro bruttissimo che va a sbattere sulla fine del campo entra con il numero 16 Gianmarco Antonacci e adesso il numero 2 Alessandro Silvestro ed entra con il numero 95 Carlo Sembalo e il numero 11 Mattia Rolando bruttissimo in questi ricambi adesso Embalo prenderà il posto di Rolando sulla destra non ha cambiato modulo in parole proprie il modulo è sempre lo stesso bruttissimo l'attacco è stato completamente rivoluzionato fa avanzare il portiere Embalo quando vuole sa giocare ma in 5 minuti non credo possa fare tantissimo Tonin nel pallone Antonacci parola laterale per il Foggia che in 5 minuti deve fare almeno un gol per tentare tutto nel recupero però ma ne cade a terra però è il pallo laterale si chiede come mai non ha subito fallo ah no ci sta un aculo qua Roma latina eh Roma latina eh Roma latina eh Roma latina però vanno a fare un'azione per il trazzio Antonacci recupera però non basta senta il tiro senta il tiro parata la penna che va subito a rilanciare la palla era per Tonin che arriva sul pallone Tonin gioca col pallone viene fermato fallosamente no dice che non c'è niente Latina tiene palla e sbaglia pallo laterale per il Latina per il Foggia di noia il pallone mi fa fermare pallosamente di noia no fa di noia la battuta passa Embalo di noia fa la brutta in mezzo contro il victoria sarà una partita abbastanza equilibata equilibata contro il victoria madonna mia che vergogna però cioè essere equilibata al victoria plzzen è un po' vergognoso diciamolo è un po' vergognoso e se quelli guardi al victoria c'è non c'è proprio bello bravo 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 Latina sulla fascia sinistra nel pallone non riesce a recuperare per la manchica di recuperare le azioni adesso è corrembalo di far rubare il pallone non riesce a recuperare correndo tantissimo schiacciano ed è fallo per il Latina che ora può amministrare il gioco tranquillamente è vuoto fatte latina per la fascia destra la fascia destra super Antonacci ma non manne è embalo ma no oggi è Antonacci 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 tra l'azione non cade ma non è fallo di noia Tonin Tonin sbaglio il passaggio Tonin ma recupera Tonin per oggi Rizzo non è da mangiare minchia prestissimo però sei di più a nord passa di noia a mannè dimmessa dal fondo ma anche contro Dio ci richiamo la Stonvilla se ci richiamo il Lil perché il Lil passa per forza è quella la domanda passa per forza il Lil e passa per forza la Stonvilla e passa per forza la Stonvilla buf eeeh fallo stupido punizione foggia di noia di noia passa Uge Uge per embalo embalo palla per chi è questo per vezzoni 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 embalo 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 latina rischia ma spazza antonaci vai al passaggio quattro minuti di recupero è complicatissima tanti a tanti a questo anno zero successi tu hai già deciso che questo anno zero successi tu hai già deciso all'altissima un campanile mille antonaci non riesce a recuperare fallo no immessa laterale pudini ha questa brutta tradizione latina purtroppo pudini ha una brutta tradizione latina anche l'anno scorso andò latina con la fide di sandia e perse l'ultima giornata e furono condannati alla di diretta adesso vinto invece latina madonna rischiati il 3-0 cosa sbagliata porta praticamente spalancata porta spalancatissima era un gol fatto bastava un tocchettino la cercata di forza per fare di prima bello latina tiene il possesso la passa al portiere rischia a manné di recuperare palla palla per il latina pigna caccio di rigore ma spero che sta andando a parlare non c'è rigore ma spero che sta andando a parlare mi sarebbe una richiesta di fuori gioco in realtà non capisco l'abito indica il dischetto ma rigore e quindi credo proprio che sia finita proprio finita rigore non ho capito perché il potere uscito l'ha toccato dubito lo paierà però è da rivedere perché lamentavo non fu il gioco io non l'ho visto con tutta l'azione velocissima prenderai in corsa prenderai in corsa gol della latina 3 a 0 e ormai cassaforte è piena cassaforte è piena passare da un 3 a 0 ad un 3 a 0 passare da un 3 a 0 ad un 3 a 0 è pesante ma sei da un 3 a 0 ma sei da un 3 a 0 ma sei da un 3 a 0 è stata studiata male la partita vabbè ma i igori sono sfide di fortuna di noia rizzo ogè ciao lorenzo tonin può scattare tonin non riesce a recuperare tonin ed è rimessa dal fondo l'abito fischia il parente farà il rinvio al portiere e batterà fischierà metta la palla sarei in aria risultato bruttissimo non mi sentirei neanche di dire bugiardo tra poco fra la fuori attirizzo riccardi embalo è finita fischia l'arbitro 3 a 0 e la classifica si complica si complica pesantemente la classifica perchè nel caso se vincesse il cerignola oggi contro la turris sarebbero problemi seri se magicamente il cerignola non vincesse con la turris sarebbero ancora i playoff perchè Sorrento Potenza Messina e Catania non si sono avvicinate non si sono avvicinate Potenza giusto il pareggio col Crotone sta facendo ma Sorrento ha perso col Monopoli il Montrose ha pareggiato il Messina ha perso con la Juve Stabia e la Casertana ha battuto il Taranto che ha segnato la Casertana che ha segnato la Casertana che ha segnato la Casertana Curcio Curcio vado vado Curcio incredibile incredibile Curcio un mostro signori noi ci vediamo tra un'oretta per Platoon 2 buona continuazione buona cena a tutti ha già chiuso tutto non fa più vedere nulla dalla partita ci vediamo tra un'oretta circa e Grazie a tutti